C'è stata una bella informazione servita, noi abbiamo fatto questa commissione perché noi consiglieri dovevamo imparare e abbiamo imparato, abbiamo avuto modo di conoscere molti aspetti sul tema di gestore che erano ancora da chiarire quindi è stata una bella soddisfazione. Ecco, avete invitato anche l'opposizione con tecnici e con partecipanti, com'è andato questo aspetto? E' andata molto bene, l'opposizione non si è risparmiata, ha fatto domande taglienti come era giusto che facesse i 5 Stelle hanno avuto una presenza molto seria e professionale grazie a un tecnico Baldoni che è stato veramente molto bravo, preciso ha fatto delle belle domandine che però personalmente mi hanno aiutato a ragionare su molte cose La Lega non ha portato tecnici e ci dispiace di questo, però anche loro hanno fatto i loro interventi un po' più politici noi speravamo in qualcosa di più tecnico per avere dati, numeri su cui ragionare. La cosa bella è che è arrivato anche un pubblico trasversale, non solo la presenza di oratori trasversali e questo è bello perché ci deve essere il 100% della rappresentanza, altrimenti parliamo solo noi stessi cosa serve. Che cosa ci si porta a casa da questa serata? Qual è adesso in maniera costruttiva quello che si può mettere in pratica da queste esperienze? Allora, si portano a casa diverse cose importanti, quella che per me è più importante e che forse emerge di meno è l'aver fatto conoscere almeno a una parte dei cittadini cosa sono le commissioni consigliari perché molti non hanno idea che esistono, lo sanno ma non sanno bene quale misterioso oggetto sia in realtà è un tavolo di lavoro attraverso cui i consiglieri nei vari argomenti si creano la loro idea vagliano, vagliano quelle che sono le delibere di giunta e possono studiare emozioni anche congiunte solo di maggioranza o maggioranza e opposizione o solo opposizione, insomma è un tavolo di lavoro vero e proprio è del tavolo di lavoro cui i cittadini possono partecipare, ovviamente possono partecipare da esterni ma possono venire, visionare, è un modo per tenerci sotto controllo ed è un loro diritto ma è anche un loro dovere tenerci sotto controllo e quindi spero che la cittadinanza si avvicini sempre di più perché è anche difficile rendere conto a qualcuno se questo qualcuno non sa cosa fai e quali sono i mezzi con cui lo fai